Bella Hadid Bella Hadid dimentica The Waked, serata con Brandon Bella Hadid si sta guardando intorno? Ha trascorso la serata con Brandon. Da settimane non si fa che parlare di un possibile ritorno di fiamma tra The Waked e Bella Hadid. Alcune fonti in passato avevano rivelato che il cantante avesse intenzione di recuperare il suo rapporto con l'ex fidanzata. I due dopo la rottura con Selena Gomez sembrano essere di nuovo complici. . Eppure, stando al sito liveodliffe.com la modella ieri 12 dicembre 2017 pare abbia trascorso una serata molto intima con l'amico Brandon. . I due sono stati visti insieme all'hotspot di New York Zoom New York. . Sono stati alcuni amici di Bella a far sapere che vorrebbero che lei frequentasse il giocatore dei Los Angeles Lakers. . Secondo loro non dovrebbe dare un'altra opportunità ad Abel poiché non si è sforzato molto per riconquistarla. . La modella è ancora molto interessata a The Waked. . Stando alla fonte Bella di The è ancora molto interessata a The Waked. . Ad oggi i due non hanno ufficializzato la loro relazione, ma lei sembra essere davvero molto coinvolta. . . Di certo per la modella non è affatto semplice pensare di uscire con altri ragazzi. . Gli amici di Bella, però, stanno facendo di tutto per farla interessare ad altri e pensano che Brandon sia perfetto per lei. . . I due condividono la passione per la pallacanestro, Bella, infatti, da sempre è una fan di dei Los Angeles Lakers. .